Allora Bella a tutti ragazzi per questo nuovo video Sono Delino.ZeroGamer E oggi Cosa facciamo? Oggi è Halloween Vi voglio augurare delle buone feste di Halloween E niente Oggi ho fatto un video con Bobby Di Di copreview Ommeno su Halloween 2018 Quello con Michael L'ultimo che ho fatto Ad ogni modo Questo video uscirà non so quanto Perché lo sto coneditando ma uscirà E niente Vi auguro buone feste E dato che Ho visto che Halloween Insomma Vado a uccidere i zombie Ciao